Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in una nuova presentazione, grazie mille per i vostri commenti, il vostro interesse, i vostri like, grazie mille a tutti quanti ragazzi. E soprattutto un piacere per me, dalla possibilità appunto per voi di poter creare questo progetto ovviamente per le persone a cui piace, a cui è piaciuto ovviamente. Ma se è ancora in costruzione? Ok, perfetto ragazzi. E quindi appunto, avevamo visto in una presentazione, no, come appunto, si chiama, vedere la presenza dell'alta tensione, ma vediamo anche il metodo classico, ok? Perché io accendo il mio circuito e non so se funziona. Perfetto. Non dimentichiamoci ragazzi che siamo in alta tensione, o meglio MT, però ovviamente MT non dà l'idea, è brutto, a me piace crearlo direttamente AT, ok? Cioè alta tensione. Non siamo ancora in AT, ok? Altissima tensione, ma siamo in alta tensione. Allora, non dimentichiamoci che anche un circuitino così, comunque alimentato da una batteria, perfetto, e il nostro piccolo trasformatore laggiù, anche se piccolino, non dimentichiamoci che può... Allora, pericoloso no, però fa un bel male, adesso appunto vediamo perché, ok? Se io appunto volessi fare la prova al mio teste, per rendermi un conto all'incirca della corrente che esce, adesso appunto lo vediamo, ok? Possiamo appunto fare la prova senza carico attaccato, cioè cortocircuitando l'uscita dei due poli dell'alta tensione, ovviamente, ok? Perfetto ragazzi, bene. E uno dice, ma sì, quel trasformatorino lì, miniatura, ma cosa vuoi che butti fuori? Non dimentichiamoci che butta fuori un kilowatt e due, ma anzi, di più saranno, perché se noi entriamo con una tensione d'ingresso più elevata, maggiore sarà la tensione di uscita, per cui andiamo a sfiorare anche il kilowatt e mezzo, quasi due, ok? Ma con una corrente di un ampere in alta frequenza, ok? Perché siamo, la frequenza siamo su 60 kHz, di solito, per queste lampade qua, per i tubi fluorescenti e soprattutto per questi tipi di circuito qui, ok? Perfetto, io lo so a memoria, per cui c'è, siamo 55-60, all'incirca. Perfetto ragazzi, adesso appunto andiamo a vedere, no, effettivamente con la nostra DDP, perfetto, di ingresso, che siamo appunto, Adesso le batterie sono un po' scariche, ma siamo comunque, se non sbaglio, hanno una tensione nominale di 14 V, all'incirca, adesso. Devo mettere un po' sotto carica. Già con 14 V, vediamo che bella l'arco voltaico fa, ok? La scossa la prendiamo, ma soprattutto fa il tipico archetto al plasma, ok? Prodotto dall'alta tensione, quindi dalla ionizzazione dell'aria, ok? Che ci sbruciacchia, ci brucia proprio la pelle, e fa male, e fa male, attenzione, ok? Ok ragazzi, questo semplicemente per vedere se il mio circuito butta fuori qualcosa, perché io non sento nessun rumore, in questo caso, del mio trasformatore che sta lavorando, ok? Il rumore appunto della trasformazione, poi della tensione, in questo caso non lo sento, ok? Perché non siamo a un valore di frequenza adeguato per sentire l'onzio del trasformatore. Per questo lo vediamo in un'altra presentazione, ragazzi. Siamo pronti, accendiamo il nostro amico, il nostro circuito, perfetto. Ecco qua il suo interruttore, l'abbiamo già visto, ok, acceso. E adesso osserviamo l'archetto, eh? Attenzione, che brucia la pelle. Eccolo lì, eccolo lì come si vede bene. Oh, sempre divertente giocare con madammati, ok? Ecco, anche la puzza di bruciato, perfetto. Ok ragazzi, si sente, ecco, ecco, perfetto. Quindi maggiore è la tensione d'ingresso, maggiore sarà l'uscita. Ecco, tra l'altro c'è il led laggiù, perfetto, che si è acceso e mi segnala che sono scariche. Sì, grazie mille di avermelo detto, poi provvedo. Eeeh, quanta fretta. Perfetto ragazzi, rivediamolo. Adesso è sceso un po'. Però giustamente con la corrente di cortocircuito, io ho una corrente massima richiamata. Ovviamente non andrebbe fatto, però giusto per darci un'idea. Perfetto ragazzi, bene. Avete visto appunto l'archetto, attenzione alle dita, spegniamolo, che tanto poi si sta scaricando inutilmente, ok? E quindi vediamo la presenza dell'alta tensione. Ok? E uno dice, ma cavolo, passando un ampere, bec una secca della madonna. No, perché siamo in alta frequenza. E per fortuna siamo in alta frequenza. Perché altrimenti, se fossimo in bassa frequenza con un ampere, ai ai ai, il discorso inizia a essere molto pericoloso. Ma del resto Madame T si diverte sempre con noi, giusto? Non vede l'ora di potersi scaricare su di noi. Per cui ragazzi mi ha richiamato l'attenzione a non bruciarvi la pelle. Ok? Basta che teniamo per mano il... Per mano, dammi la mano. Teniamo per mano il nostro amico conduttore, uno dei due conduttori, cioè uno dei due fili, e non ci succederà nulla. Perfetto ragazzi, bene. Allora, spero che anche questa parte qui non sia noioso, ma ci tengo a darvi tutti i dettagli, così poi potrete appunto costruire questo progetto senza nessun problema, ok? Stando poi attenti alle varie tensioni, soprattutto all'alta tensione di uscita, che ripeto, non è pericolosa. Allora, se io prendo la scossa, soprattutto poi a questa frequenza qui, sento nettamente più che altro il bruciore della pelle, cioè mi brucia la pelle, il tipico plasmino dell'alta tensione. Ma non sento la scossa in sé, sento che mi brucia la pelle. Ok, semplicemente. Per cui non ci spaventiamo. Perfetto ragazzi, ci vediamo nella prossima presentazione. Ciao a tutti, e buona costruzione, perché le persone che hanno già iniziato, o chi comunque inizierà a breve. Ok ragazzi, ciao a tutti.